Anche quest'anno la Virtus Lanciano inizierà il campionato in trasferta e che trasferta. I frentani infatti saranno ospitate allo stadio Massimino dal Catania, squadra retrocessa allo scorso anno dalla Serie A che punta ovviamente a restare il meno possibile tre cadetti con l'obiettivo della promozione. Non sarà facile ed occorrerà la Virtus Migliore, una Virtus che comunque giunge in terra siciliana rinfrancata dalla bella prestazione di Coppa Italia contro il Genoa. D'Aversa avrà qualche rebus da risolvere, condizionato soprattutto dalle assenze forzate legate alle squalifiche. Mancheranno infatti a mente in difesa piccoli e turchi per quel che riguarda l'attacco. Defezioni importanti che però non impediranno a D'Aversa di utilizzare il collaudato 4-3-3. Il tecnico potrebbe decidere di schierare la stessa difesa utilizzata in Coppa contro il Genoa con Conti, Tröst, Ferrario e Capitan Mammarella. Quanto al centrocampo non è da escludere l'impiego dal primo minuto di Pinato affiancato da Paghera e di Cecco con Bacinovic e Grossi pronti a subentrare. In attacco probabilmente ci sarà una staffetta tra Monachello e l'ultimo arrivato Cerri in un tridente che sarà completato da Gatto a destra e Babatiam a sinistra. Quanto al Catania, Pellegrino ha recuperato gli acciaccati Frison e Almiron e non sembra intenzionato ad utilizzare gli ultimi arrivati gli argentini Escalante e Pier Marteri. Una cosa è certa, sarà un impegno duro ma allo stesso tempo intrigante per la Virtus.